Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo incontro per la rubrica Scuola con il Cervo. Io sono Cervi Andrea di C2 Group, il vostro esperto informatico e oggi parleremo di come i monitor touch di Promethean possono essere gli strumenti ideali per essere utilizzati con la suite di Office 365. Un monitor touch non ha lampade da cambiare, un monitor touch non ha filtri da pulire o da cambiare. Il monitor touch di Promethean ovviamente è garantito per decine di migliaia di ore di utilizzo. Inoltre ha dei tempi di accensione rapidissimi ma soprattutto raggiunge immediatamente la soglia di colore e di qualità desiderata, cosa sicuramente diversa rispetto ad un proiettore. Ma ora direi di passare la parola a Luca, il nostro Luca di Fino, che ci farà vedere come poter sfruttare il touch del monitor Promethean con la suite di Office 365. Luca vai, tra l'altro oggi edizione speciale perché Luca è davanti a un monitor, non è qui con noi, è in una sede di Promethean vicino a Roma, ma finalmente Luca che fa lezioni davanti a un monitor. Vai Luca! Andiamo a vedere appunto più in dettaglio cosa possiamo fare, quindi cosa possiamo fare con la nostra, con Teams, con le nostre classi virtuali e quindi fatemi mettere adesso sulla lavagna, sullo schermo Promethean, la mia applicazione di Teams e entriamo per esempio nella nostra classe digitale dove troviamo, se conoscete già Teams, sapete che all'interno di Teams potete contemporaneamente, potete fare con una sola applicazione, potete utilizzare una singola applicazione per tutte le esigenze che avete nella classe, quindi interazione con la classe, quindi abbiamo per esempio in questo caso il nostro canale post con tutti i messaggi che io do agli studenti, quindi tutte le informazioni, tutte le notifiche o avvisi per attività che facciamo insieme, per compiti, per suggerimenti e indicazioni di video da poter vedere a casa per approfondire, materiale che do e tutto questo lo troviamo all'interno del canale, vedete posso, ho suggerito un video su YouTube, chiaramente qui dentro si troveranno anche le riunioni, quindi quando avrò delle riunioni programmate e dopo vediamo magari più in dettaglio come fare, troveranno il calendario delle riunioni all'interno anche dei messaggi del canale e vedete posso avvisarli che per esempio ci sarà una certa attività, in questo caso l'attività di disegno e quindi servirà del materiale, quindi io gli ho illustrato con un messaggio tutto quello che servirà per completare quell'attività. Chiaramente questo messaggio essendo in un ambiente di classe virtuale sarà visto anche ognuno dal proprio cellulare, dagli studenti, sia gli studenti che in questo caso che stanno a casa e chiaramente anche da quelli che sono in presenza. L'altra cosa che possiamo fare quando io vado a inserire un nuovo messaggio, una nuova conversazione, posso andare a compilarlo, a trasformarlo, come vedete qui, in un messaggio che sia più evidente andando a fare quello che si chiama un annuncio, quindi io qui vado a impostare il mio annuncio e per esempio qui faremo un'attività, quindi gli do ai miei studenti del materiale su Galileo. Ok? E quindi vado a mettere qui approfondite allegato e quindi vado a lasciare un messaggio ai miei studenti e soprattutto la cosa che posso fare è andare ad allegare un file, quindi io andrò a caricare un file o dal, se l'ho già caricato in OneDrive, oppure posso caricarlo dal mio computer locale, quindi se l'avete già caricato nel cloud, oppure ve lo andate a prendere sul vostro computer e caricate il vostro documento, in questo caso è un documento Word. Questo documento sarà allegato al messaggio, quindi arriverà automaticamente a tutti gli studenti. posso decidere, vedete, mi fa decidere qual è la posizione di upload perché questo file in questo caso sarà messo in una cartella in modo da non essere soltanto trovabile, recuperabile dagli studenti solo dal messaggio perché altrimenti magari si perderebbe all'interno dei messaggi, ma vedete che se io questo lo mando ai miei studenti, quindi apparirà il mio messaggio, il mio avviso in questo caso è ben evidente con il documento e vedete che io questo documento posso andare a cercarlo, quindi lo troverò automaticamente allegato, quindi nella sezione file del mio team, quindi andrò nella cartella class materials e vedete ecco qui il mio documento. In questo caso l'ho inserito nella cartella class materials perché voglio che sia per loro un documento semplicemente di riferimento, cioè non voglio che loro possano modificarlo. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio appunto Promedia che ci ha messo a disposizione il pannello, ringrazio C2, grazie e arrivederci. Grazie Luca, finalmente è stato molto piacevole vederti fare lezione davanti a un monitor Luca al posto che è dietro a una webcam e basta. Grazie per la participazione, grazie a tutti voi e ricordatevi di seguire i nostri canali social. Alla prossima!